Grazie senatrice, ovviamente il compito che mi spetta è un compito abbastanza pesante. Prima di cominciare a entrare nel vivo del lavoro del convegno vorrei ringraziare l'associazione delle famiglie delle vittime della strage di Ustica e l'istituto Parri per questa iniziativa perché credo che sia un momento molto importante e una delle prime volte in cui come storici siamo chiamati a confrontarci con uno dei purtroppo numerosi e drammatici eventi che costellano la storia dell'Italia repubblicana. Credo che questa iniziativa sia particolarmente utile per ricordare a noi storici il dovere morale, prima ancora che professionale, di occuparci di faccende ed eventi così complicati e che molto spesso siamo portati a orientare le nostre ricerche in direzioni diverse e a evitare problemi di difficile soluzione e quindi scomodi da un punto di vista metodologico orientandoci verso qualcosa di più maneggevole dal punto di vista professionale. La mia relazione è una relazione di contesto come un po' tutte quelle del convegno ma forse la mia ancora di più. Quello che farò nel spazio generosamente concesso dagli organizzatori è di cercare di ricostruire il quadro internazionale tra 1979 e 1980 e l'amico Luca Alessandrini mi ha chiesto poi di parlare anche di relazioni tra Italia e Stati Uniti in quel periodo. Quindi non vogliatemene se la mia relazione sarà un po' più lunga di quanto vorreste ma in realtà sono due relazioni in una, cioè una di natura più generale ed una che cercherò di contenere sull'aspetto specifico delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. La relazione introduttiva, comunque la prima parte del mio intervento riguarda l'evoluzione del sistema internazionale alla fine degli anni 70 e la prima parola che devo usare per cercare di riassumere il senso di quello che sta accadendo è crisi. Siamo in una fase di trasformazione del sistema internazionale in cui le tenue certezze costruite nel corso degli anni 70 di un progressivo percorso di distensione si vanno molto rapidamente sgretolando e quindi il primo obiettivo del mio intervento è definire l'arco delle crisi crisi che riguardano innanzitutto il sistema bipolare da cui si immaginava di stare uscendo con la distensione avviata negli anni 70 e che invece proprio nel 1979 e proprio alla fine del 1979 ritorna ai tempi e ai climi culturali e psicologici degli anni più duri della guerra fredda con una successione di eventi strettamente collegati gli uni agli altri che riacutizzano tensioni che sembravano essere state sopite e superate. Quindi il primo obiettivo è definire la crisi della distensione e il ritorno della guerra fredda il secondo obiettivo è quello di definire le altre crisi che a questa si affiancano cercando di capire in che modo vi siano collegate o vivano invece di una vita indipendente e quindi vorrei fare una carrellata sui problemi della regione medio orientale nel corso di quei mesi. Poi vorrei aggiungere due elementi apparentemente più lontani ma che comunque contribuiscono a dare l'idea di questo momento storico come un periodo di profonda trasformazione. Il primo è quello che riguarda la crescente importanza attribuita per tutto il decennio degli anni 70 e soprattutto alla fine del decennio al problema della proliferazione nucleare che diventa uno dei temi estremamente rilevanti del dibattito internazionale in quegli anni basti ricordare che di lì a un anno ci sarà l'attacco israeliano contro il reattore nucleare iracheno di Osirak nel 1981. Ultimo punto e questo effettivamente un po' meno correlato con le vicende di cui ci stiamo occupando ma comunque significativo la sensazione di una trasformazione profonda di tutto il sistema internazionale non soltanto per quello che riguarda le relazioni bipolari ma anche per quello che riguarda l'emergere di tendenze di lungo periodo che hanno cominciato ad affermarsi nel corso degli anni 70 e che negli anni seguenti emergeranno in maniera ancora più evidente. Allora è un'agenda piuttosto lunga e fitta quindi perdonatemi se procederò abbastanza rapidamente e poi magari su ciascuno di questi punti possiamo ritornare nel corso della discussione. Il primo punto allora è il ritorno della guerra fredda. Vorrei partire con una citazione che dà bene l'idea del cambiamento in atto perché ancora a metà del 1979 si vive in una fase in cui ci si aspetta che le difficoltà che sono emerse nella seconda metà degli anni 70 nel rapporto tra Stati Uniti e Unione Sovietica siano difficoltà superabili o maneggiabili che non sia inevitabile ritornare a una logica di confronto. Nel marzo del 1979 si svolge una concitata riunione di tre giorni del Politburo del Partito Comunista, l'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica in cui il Politburo deve decidere se inviare o no truppe in Afghanistan. Nel corso di quella circostanza emergono punti di vista diversi l'Afghanistan non ce la farà, il regime comunista afghano a sopravvivere alle tensioni si è appena chiusa in maniera sanguinosa la rivolta di Herat forse è indispensabile mandare truppe però prevalgono voci più caute. Gromyko, il futuro primo segretario Andropov che in quel momento è il capo del KGB dicono no, in nessun modo dobbiamo mandare truppe in Afghanistan anzi è troppo rischioso. Gromyko, il ministro degli esteri, dice sostanzialmente se invadessimo l'Afghanistan butteremo all'aria tutto quello che abbiamo conquistato con tanta difficoltà la distensione in particolare i negoziati del SOLT 2 per il controllo degli armamenti negli Stati Uniti sicuramente non ci sarebbe la firma di un accordo che in qualunque modo guardiate al problema rimane per noi la principale priorità. Leonid Illich, cioè Bresdiv, non si incontrerebbe con Carter e non ci sarebbe la visita di Giscard e Sten in Unione Sovietica tutte le nostre relazioni con i paesi occidentali e con la Germania federale sarebbero rovinate. Marzo 1979 dicembre 1979 il politpiuro raggiunge la conclusione opposta decide di invadere l'Afghanistan quello che siano rifiutati di fare e menti più caute erano prevalse nella discussione quelle stesse persone nel dicembre 1979 decidono che ormai la distensione è persa che i rapporti con gli Stati Uniti e con l'Europa occidentale si stanno rovinando che quello che si sperava di salvaguardare si è incrinato e quindi tanto vale invadere l'Afghanistan e salvare il salvabile anche qui i documenti sovietici ce lo dicono abbastanza apertamente Brezhnev in un incontro con il segretario generale del partito socialista della Germania orientale Honecker in ottobre gli dice sono pericolosi questi giochi che gli Stati Uniti e la Germania federale stanno giocando se portassero avanti i loro progetti sarebbe un colpo durissimo per la distensione stanno parlando del rischio dello schieramento degli euromissili in Europa occidentale così come i sovietici sono preoccupati della politica interna americana e di quanto l'amministrazione Carter si trovi in crescente difficoltà contro la montante marea conservatrice quella che poi farà perdere a Carter le elezioni l'anno dopo soprattutto le critiche di quelli che poi diventeranno i neoconservatori tristemente famosi e Brezhnev dice non siamo così sicuri che il SOLT possa veramente essere ratificato il trattato era stato firmato in giugno ma la sua sorte era appesa a un filo e quindi i sovietici arrivano alla conclusione che i vantaggi della distensione si stanno esaurendo che quel percorso storico sembra messo a repentaglio e che d'altro canto la situazione in Afghanistan sta diventando sempre più difficile a un certo punto uno di loro usa una metafora non sarà che Amin il capo del partito comunista afgano ci sta per giocare un altro scherzo alla Sadat cioè magari passa dalla parte degli americani come Sadat ha fatto con qualche anno prima e di fronte all'attenuazione dei vantaggi della distensione e il rischio di perdere l'Afghanistan nel dicembre del 79 si decide di invadere l'Afghanistan la decisione praticamente viene presa negli stessi giorni in cui l'alleanza atlantica a Bruxelles del 12 dicembre prende la sua famosa doppia decisione quella di schierare gli euromissili in Europa e di aprire la tavola del negoziale con i sovietici per vedere se quello schieramento debba essere effettivamente messo in pratica o no nella speranza che il negoziato convinca i sovietici a ritirare le loro armi di teatro gli SS-20 e quindi renda inutile lo schieramento degli euromissili che quelle armi avrebbero dovuto avrebbero dovuto bilanciare paradossalmente allora c'è una coincidenza di date impressionante nel dicembre del 79 la distensione arriva al capolinea questi due avvenimenti la doppia decisione di Bruxelles dell'alleanza atlantica la decisione sovietica di invadere l'Afghanistan inaugurano un periodo di drammatiche difficoltà che cominciano subito se si va a leggere i documenti degli ultimi giorni del 79 dei primi giorni dell'80 si immerge in un clima che sembrava essere stato faticosamente superato si ritorna ad una logica di confronto duro tra i blocchi che culminerà nel 1983 l'anno in cui si va più vicini ad uno scontro nucleare di quanto si potesse pensare in tutti i decenni precedenti la maggior parte degli storici ritiene che il 1983 debba essere considerato l'anno più pericoloso della guerra fredda subito dopo quello della crisi di Cuba del 1962 per un accumularsi di tensioni che rischiano di far innescare una guerra nucleare chiaramente si entra in una fase nuova nel sistema internazionale si può discutere se la distensione sia stata a sua volta una fase nuova o una semplice parentesi nell'arco della guerra fredda ma non c'è dubbio che a partire dalla fine del 79 i primi mesi dell'80 si sia entrati in un periodo molto diverso molto diverso al precedente e questo lo conferma anche l'analisi della posizione degli Stati Uniti l'amministrazione Carter si era insediata nel 1977 con la ferma intenzione di mettersi alle spalle la guerra fredda tutta una serie di studi emersi negli ultimi anni pubblicati anche in tempi molto recenti sottolineano come Carter si immaginasse come il primo presidente post bipolare in qualche maniera chiamato a gestire la globalizzazione in un contesto di crescente multilateralità per cui il rapporto con i sovietici è importante ma perché si vuole ragionare secondo paradigmi e criteri diversi da quelli della guerra fredda e invece paradossalmente proprio questo presidente con questo disegno così ambizioso viene progressivamente risucchiato all'interno della logica del confronto bipolare da un lato perché all'interno della sua opinione pubblica cioè all'interno del suo paese la sua opinione pubblica i suoi avversari lo incalzano sistematicamente per essere troppo accondiscendente o troppo tenero nei confronti dei sovietici sono gli anni in cui si sospetta che persino le stime della CIA nei confronti dell'arsenale nucleare sovietico non siano sufficientemente precise e un gruppo di falchi decide di allestire uno sforzo analitico parallelo quello che poi diventerà il cosiddetto team B la squadra B che ha lo scopo di rimettere in discussione tutte le stime sull'arsenale nucleare sovietico fatte dalla CIA perché sono troppo al ribasso incalzato da questa marea montante di un'opinione pubblica che non si fida più della distensione e vede Carter come un presidente vacillante lui si sposta progressivamente in maniera riluttante su posizioni più dure e oggettivamente quello che succede alla fine del 79 lo porta a ripensare il suo comportamento precedente e a diventare quello che non voleva più essere cioè un esponente della logica della guerra fredda ad adottare una posizione di scontro nei confronti nei confronti dell'Unione sovietica allora il 1980 è l'anno in cui dopo un lungo periodo in cui sembrava che il bipolarismo potesse essere superato attraverso un faticoso processo di costruzione di una realtà internazionale diversa il bipolarismo si riafferma invece in maniera prorompente e quasi violenta con questa sequenza di avvenimenti della fine del 1979 nelle settimane seguenti l'amministrazione Carter deciderà di boicottare le Olimpiadi di Mosca di rinviare la ratifica del Solt 2 di porre un embargo sulle esportazioni di grano in Unione Sovietica tutta una serie di durissime misure di confronto come se questo non bastasse tutta l'area circostante l'Italia di cui poi parlerà anche Marielle con più dovizia di particolari attraversa una fase di recrudescenza di tensioni quello che oggi noi ricordiamo come un momento importante verso la pacificazione del Medio Oriente cioè il trattato di Camp David tra l'Egitto e Israele che viene firmato il 26 marzo del 79 innesca tensioni durissime perché tutti gli altri paesi arabi contestano all'Egitto di aver firmato questo trattato perché non prevede una soluzione immediata del problema palestinese ma si limita a sollecitarne l'attuazione e dapprima la Lega Araba invita l'Egitto a non procedere alla firma alla ratifica del trattato e poi espelle l'Egitto uno dei paesi fondatori della Lega Araba il che provoca persino lo spostamento della sede della Lega Araba a Tunisi dal Cairo a Tunisi quindi come sappiamo un anno dopo 1981 Sadat pagherà con la vita quando sarà assassinato la scelta di aver firmato il trattato di pace con Israele forse meno noto ma altrettanto importante è quello che accade alla Mecca nel novembre del 1979 quando la grande moschea della Mecca viene presa ad assalto da un gruppo di radicali islamici e la casa reale saudita decide di usare la forza per reprimere l'insurrezione causando circa 200 vittime tra le forze di sicurezza e i manifestanti alcuni degli organizzatori della rivolta in puro stile saudita saranno decapitati un paio di mesi più tardi è chiaro che questo è un evento particolarmente cruciale per la storia del Medio Oriente perché spinge la casa reale saudita ad una radicalizzazione della sua posizione in parte perché i clerici gli rimproverono di essere stata eccessivamente poco zelante negli anni precedenti in parte per prevenire il ripetersi di episodi di questo genere l'atteggiamento di esportazione del credo vahabita che caratterizza la politica estra saudita da un punto di vista religioso diciamo subisce un'accelerazione a partire da questo evento anche perché contemporaneamente in Iran c'è stata la rivoluzione che ha portato alla fuoriuscita dello Shah dal paese nel gennaio del 79 alla progressiva radicalizzazione della rivoluzione e alla trasformazione dell'Iran in una repubblica teocratica di fronte alla possibilità che l'Iran diventi il perno del radicalismo sciita i sauditi si sentono in dovere di rafforzare la loro posizione come perno di un credo contrapposto quello del variante vahabita della fede sunnita sostanzialmente questo significa una radicalizzazione di tutto il Medio Oriente a partire del 1979 che vede per di più l'inizio della guerra Iran-Iraq novembre 1980 e la tensione di cui sentiremo parlare nuovamente tra oggi tra stamani e oggi pomeriggio tra la Libia e il Chad quando ripetutamente sotto varie forme il governo di Gheddafi tra il 79 e l'80 interviene in Chad da prima contrastato dai francesi quando i francesi si ritirano nel maggio del 1980 nel giugno del 1980 Gheddafi firma un trattato di amicizia con il governo rivoluzionario di Gucuni in Chad sono elementi di un puzzle che ci fanno capire come sia il contesto globale del sistema internazionale sia quello più specifico che riguarda il Medio Oriente e il Mediterraneo siano nel 1980 in pieno fermento a questo vorrei aggiungere un tassello quello che ricordavo all'inizio che è diciamo da tenere sullo sfondo ma che ci aiuta a capire l'emergere di questa tensione gli anni 70 sono gli anni in cui la proliferazione nucleare sale all'attenzione del sistema internazionale se vogliamo è sempre stato un problema latente ma negli anni 70 diventa un problema di drammatica attualità per una serie di motivi molto semplici perché diventa più facile per una serie di innovazioni tecnologiche produrre i materiali con cui si costruiscono le bombe atomiche l'accesso alla tecnologia subisce una serie di accelerazioni e di trasformazioni importanti unite a questo la maturazione di una serie di programmi nucleari civili che subiscono un'accelerazione a causa degli shock petroliferi e degli embarghi del 1973 e aggiungete la ribellione da parte di una serie di stati di quello che una volta si chiamava il terzo mondo ma che adesso si definisce il global south contro la regolamentazione di tutto il settore nucleare imposto dall'occidente e avete una miscela esplosiva una serie di paesi insospettabili cominciano a sviluppare programmi nucleari civili e con possibili ricadute militari che questo sia fattibile lo dimostra l'India con la sua prima esplosione nel maggio del 1974 ma il test indiano è quello che dimostra quanto non solo sia praticabile la strada della proliferazione nucleare ma sia anche relativamente indolore perché non è che l'India poi subisca chissà quali sanzioni per aver fatto esplodere quella che all'epoca venne definita una esplosione nucleare pacifica e gli stati che cominciano a programmare il loro sviluppo nucleare a partire dalla seconda metà degli anni 70 sono il Pakistan l'Iraq e la Libia e questo ovviamente sullo sfondo delle tensioni che ho cercato di riassumere aggiunge un altro tassello di pericolo all'evoluzione del sistema internazionale anche perché gli Stati Uniti dall'amministrazione Carter si fa carico con particolare vehemenza di attuare una politica di non proliferazione nel 1978 il congresso degli Stati Uniti passa una legge per cercare di costringere gli Stati Uniti a bloccare gli sviluppi nucleari in senso militare di tutta una serie di stati e l'amministrazione Carter premia sui suoi alleati europei come vedremo anche con l'Italia per evitare traffici che possano produrre risultati pericolosi sulla scena internazionale all'epoca è difficile leggere e capire con chiarezza l'evoluzione come sempre quando ci si trova immersi in una fase di piena trasformazione è difficile capire da che parte sta andando il sistema internazionale l'amministrazione Reagan cercherà di ricondurre in maniera un po' forzata tutto questo insieme di crisi che in parte dipendono dalla guerra fredda ma in parte no e hanno ragioni diverse l'amministrazione Reagan cercherà di ricondurre tutto alla logica della guerra fredda e di individuare nel bipolarismo nella chiave di lettura bipolare la variante definitiva la variabile cruciale di questa equazione con una forzatura che la porterà ad agire in maniera molto rigida negli anni successivi quello che qui mi preme sottolineare è l'emergere di tutte queste tensioni e aggiungere un ulteriore tassello alla nostra riflessione comune qualche mese fa è uscito un libro di un giornalista inglese Christian Caron dal titolo strano e dal contenuto ancora più strano il libro si chiama Strange Rebels 1979 and the birth of the 21st century il 1979 strani ribelli il 1979 la nascita del ventunesimo secolo la tesi del libro è molto controversa e non del tutto condivisibile Caron fa la biografia di quattro personaggi Deng Xiaoping la signora Thatcher Giovanni Paolo II e la Yatollah Khomeini e dice che queste quattro personalità che consolidano il loro potere o lo ci salgono nel 1979 in quell'anno imprimono una sterzata profonda all'evoluzione del sistema internazionale rivalorizzando due tendenze di fondo che si credevano superate l'importanza della religione e il libero mercato e il neoliberismo le riforme di Deng in Cina e la brutale violenza con cui la signora Thatcher spazza via lo stato assistenziale in Gran Bretagna per aprire le porte al neoliberismo sono secondo lui due elementi della stessa due facce della stessa medaglia così come le folle tumultuanti che accolgono Giovanni Paolo II in Polonia o la sterzata teocratica della rivoluzione comunista in Iran rappresentano il ritorno della religione come elemento fondamentale della storia internazionale la tesi è un po' forzata vari recensori ne mettono in evidenza i limiti e però non c'è dubbio che contemporaneamente a questa sequenza di crisi di cui ho parlato finora siano in atto anche altre tendenze evolutive del sistema internazionale l'abbandono del kinesismo e del del modello di crescita economica che ha funzionato fino ai primi anni settanta è un fenomeno che costella tutti gli anni settanta e che si matura in questi anni prima con la signora Thatcher in Gran Bretagna poi con Ronald Reagan negli Stati Uniti in un certo senso con le riforme e l'apertura al mercato di Deng Xiaoping in Cina così come non c'è dubbio che non so quanto si possa parlare di un ritorno di un fondamentalismo religioso in Occidente ma non c'è dubbio che la rivoluzione islamica in Iran riacutizzi un radicalismo religioso che è destinato poi a durare fino ai giorni nostri allora questo è lo sfondo che mi è stato chiesto di offrire ai lavori del nostro convegno su questo vorrei brevemente innestare alcune considerazioni sui rapporti tra Italia e Stati Uniti in questo stesso arco temporale con una premessa per tutta la durata della guerra fredda le relazioni tra Italia e Stati Uniti non sono relazioni normali non sono solo relazioni tra due Stati gli Stati Uniti sono qualcosa di più di un alleato sono il garante della stabilità interna del Paese e è difficile separare questo loro ruolo da quello di garante della sicurezza esterna cerco di usare dei termini neutri anche se è difficile quando si affrontano questi temi mantenersi su un solco di obiettività gli Stati Uniti sono il che non vuol dire che l'Italia sia un semplice ricettore passivo della pressione americana molto spesso l'Italia sollecita la pressione americana o la utilizza per i suoi propri fini quindi c'è un rapporto dialettico ma quello che mi permette di sottolineare è che per tutta la durata della guerra fredda questa atipicità delle relazioni tra Italia e degli Stati Uniti è un dato costante di cui non si può fare a meno quando si analizzano la politica estera italiana o la politica estera americana in Italia e in questi anni si rafforza direi ulteriormente questa dimensione bivalente del rapporto tra Italia e gli Stati Uniti per tutta la seconda metà degli anni settanta la paura del compromesso storico dell'eurocomunismo ha caratterizzato il ruolo dell'amministrazione Carter in Italia l'ambasciatore Gardner arriva a Roma nel 1977 come racconta ripetutamente nelle sue memorie con l'intenzione di non essere un ambasciatore conservatore che interferisce con l'andamento della politica interna italiana non vuole porre veti eppure si trova nelle condizioni di dover fare esattamente questo perché di lì a pochi mesi all'inizio del 1978 si arrampicherà sugli specchi per elaborare quella formula non interferenza e non indifferenza che vuol dire che gli Stati Uniti non sono contenti nel caso di un eccessivo dialogo troppo stretto con il partito comunista il rapporto con il PC quindi resta il tema di fondo della politica americana in Italia per tutti questi anni anche se all'interno dell'ambasciata americana c'è una divergenza di fondo su come affrontare il problema l'ambasciatore Garner si convince sempre di più che la soluzione passi attraverso la marginalizzazione del PC e il ritorno a un centro-sinistra pulito come si diceva una volta quindi la valorizzazione del partito socialista di Craxi il recupero del dialogo tra democrazia cristiana e partito socialista i partiti laici minori come si diceva all'epoca e mettere il PC in un angolo come era stato fatto fino alla metà degli anni 70 ritornare ad una situazione più chiara paradossalmente questa linea viene contestata da un elemento molto conservatore all'interno dell'ambasciata che è il capo della stazione CIA Dwayne Claridge il quale ci racconta nelle sue memorie Claridge è un personaggio molto discutibile e alcuni anni dopo si ritroverà immerso nello scandalo Iran-Contras a gestire il posizionamento delle mine nei porti del Nicaragua ma lui sostiene che per risolvere il problema bisogna fare un'offerta chiara al PC e portarlo dalla parte dell'Occidente coinvolgerlo ancora di più e non cercare di marginalizzarlo come vorrebbe Gardner Claridge non si fida dei socialisti dice i comunisti forse è meglio spingerli fino in fondo alla rottura con Mosca e portarli e portarli dalla nostra parte alla fine prevale la linea dell'ambasciatore e da un punto di vista politico tra 1979 e 1980 questa linea sembra pagare perché si ritorna ad un governo di centro-sinistra con l'appoggio esterno del partito socialista o comunque con la marginalizzazione del partito comunista anche se i documenti dell'epoca compreso alcuni documenti della stessa CIA ci mostrano una grande incertezza non è chiaro quanto questo ritorno al centro-sinistra possa funzionare possa durare e gli stessi protagonisti di quella scelta oscillano tra l'approfondire questa direzione e tornare indietro a cercare il dialogo con il partito comunista quanto questa logica paghi lo dimostra alcune scelte importanti che il governo italiano fa in quegli anni in primo luogo quella di schierare gli auromissili che è una scelta che sintetizza bene tutta la dialettica del rapporto tra Italia e Stati Uniti non è una scelta che gli Stati Uniti impongono il ruolo l'Italia se lo afferra con entusiasmo il governo italiano sfrutta questa occasione come aveva fatto negli anni 50 ogni qualvolta si trattava di schierare armi nucleari sul territorio nazionale per evitare la sua progressiva marginalizzazione nel contesto transatlantico per tutti gli anni 70 l'Italia è stata messa ai margini del dialogo tra alleati europei e Stati Uniti e questo è l'incubo di ogni diplomatico italiano la paura di essere tenuti fuori della marginalizzazione quell'incubo si materializza nel gennaio del 79 al vertice della Guadalupa quando Carter il primo ministro inglese Callahan quello tedesco Schmitt il presidente francese Giscard d'Esten in magliette e canottiera discutono di schierare in Europa tutta una nuova generazione di armi e gli italiani non ci sono questo crea uno shock violento che spinge la diplomazia italiana a dimostrarsi quanto mai disponibile a recuperare il terreno perduto e a farsi promotrice dello schieramento delle nuove armi per cui gli Stati Uniti scoprono dal loro punto di vista con piacere un alleato particolarmente zelante che si offre per essere in prima linea nello schieramento di queste armi e c'è un effetto simultaneo l'espulsione del PC dall'area della maggioranza di governo e l'adozione di una linea dura all'interno dell'alleanza atlantica sono due cose che vanno di pari passo ovviamente e quindi da un lato serve alla politica estra italiana per riguadagnare prestigio e credibilità mostrarsi in prima fila nell'attuazione di questa decisione dall'altro serve a radicalizzare ulteriormente la scelta fatta sul piano politico interno perché diventa ancora più difficile per il PC assumere il ruolo di alleato credibile nel momento in cui il governo prende una decisione del genere a partire dal 1980 l'Italia si è impegnata a schiareare tutta una nuova serie di armi il momento cruciale arriverà nell'83 sul proprio territorio qualora il negoziato che si vuole aprire con i sovietici dovesse fallire da parte americana c'è una certa soddisfazione per come si sta orientando la scena politica italiana anche se si nutrono dubbi sul suo futuro e su come si sta orientando la politica estera la reazione italiana all'invasione dell'Afghanistan il fatto che Pertini sia il primo uomo politico occidentale a prendere una posizione favorevole al rilascio degli ostaggi catturati dagli studenti iraniani all'interno dell'ambasciata di Teheran sono tutti segnali che l'ambasciatore Gartner sottolinea positivamente nelle sue memorie come prova di una ritrovata capacità di dialogo dopo le difficoltà degli anni precedenti c'è un ultimo elemento però che vorrei sottolineare e poi finisco mi rendo conto di aver esaurito abbondantemente i 40 minuti che Luca mi aveva messo a disposizione e cioè c'è un punto di contrasto ce ne sono più di uno perché sia pure accondiscendendo all'adozione di misure più dure nei confronti dell'Iran dell'Unione Sovietica dopo la rivoluzione in Iran o l'invasione dell'Afghanistan il governo italiano invita comunque quello americano ad un atteggiamento di moderazione e di cautela ma il punto di contrasto riguarda proprio quello delle forniture nucleari all'Iraq perché l'Italia come altri paesi la Francia è in primo luogo ma la Germania sta facendo la stessa cosa con il Brasile e la Francia si era impegnata a farla anche con il Pakistan e con la Corea del Sud esporta tecnologie nucleare è un mercato vantaggioso e l'Italia non ne vuole essere tagliata fuori e l'Italia si è impegnata a offrire tutta una serie di tecnologie all'Iraq in particolare quello delle cosiddette hot cells che sono impianti per il riprocessamento del plutonio per estrarre il plutonio dall'uranio utilizzato negli impianti civili certo quello che l'Italia vuole fornire all'Iraq è un piccolo laboratorio e la quantità che potrebbe produrre è una quantità di plutonio che se ne potrebbe ricavare è insufficiente al fine dell'allestimento di una bomba e però fin da quando questo transfer di tecnologia viene discusso gli italiani si interrogano ma faremo bene ma faremo male i documenti che insieme a Marielle abbiamo cominciato a vedere all'archivio centrale dello Stato mostrano una certa perplessità non è così semplice certo ci conviene farlo tanto lo fanno anche i francesi il mercato iracheno è un mercato promettente c'è chi è più incoraggiante dice ma no gli iracheni sono persone fidate c'è chi qualche dubbio ce l'ha gli americani cominciano a preoccuparsi su questa faccenda e ripetutamente chiedono chiarimenti su quello che l'Italia ha intenzione di fare in Iraq e nel marzo del 1980 esce un articolo a cura di Richard Barth che denuncia con una certa veemenza la fornitura di questa tecnologia italiana all'Iraq la cosa poi degenera l'ambasciatore Gardner sostanzialmente chiede la testa di Achille Albonetti che è l'esponente il direttore del comitato nazionale dell'energia nucleare per quello che riguarda le relazioni internazionali lo scontro diventa abbastanza serrato l'Italia continua nella sua fornitura dicendo che l'Iraq ha firmato il trattato di proliferazione nucleare questo materiale è comunque sottoposto a salvaguardia vale appena di ricordare che nell'estate del 1980 alcuni si verificano dei piccoli attentati per fortuna senza vittime in Italia presso laboratori o le abitazioni private persone che collaborano con la SNIA Techint che è la ditta che produce il materiale da esportare in Iraq all'epoca si suppone che ci sia dietro la mano dei servizi segreti israeliani ed è molto probabile ma diciamo vale la pena ricordarlo per sottolineare come questo tema sia un elemento in più da tenere presente quando si valutano le scelte di politica estera di quegli anni perché pur essendo un alleato fedele pur essendo un alleato che compie i passaggi che gli Stati Uniti si aspettano vengano compiuti quando si tratta di decidere di cose importanti e la cosa più importante è lo schieramento degli oromissili l'Italia rivendica un margine di autonomia per esempio nell'avere a che fare con bizzarri dittatori medio orientali come nel caso di Saddam di Saddam Hussein per concludere è chiaramente una situazione di estrema difficoltà in cui il governo italiano cerca di orientarsi ricorrendo a strategie rodate e collaudate negli anni l'allineamento con gli Stati Uniti la prova di fedeltà atlantica per poter mantenere un certo grado di autonomia un margine di manovra all'interno della regione medio orientale e del Mediterraneo è chiaro che è una situazione quanto mai difficile e complicata in cui per certi aspetti ci si fida di un solco di una tradizione che sembra consolidata e dall'altro ci si trova anche ad affrontare problemi nuovi la sensazione che si ha leggendo i documenti di quegli anni è che l'Italia scopra di questo ci parlerà Mariele una dimensione mediterranea con una soglia di pericolosità quasi senza precedenti in cui i focolai di tensione si sovrappongono l'uno all'altro e questo crea uno scenario che richiede anche l'adozione di scelte diverse dal passato e prese di posizione più coraggiose se vogliamo metterla così gli Stati Uniti sollecitano l'Italia a farsi esportatore di sicurezza e non più solo fruitore di sicurezza ad un certo momento all'interno dell'alleanza atlantica gli Stati Uniti dicono apertamente con la crisi in Afghanistan noi dobbiamo spostare pezzi della sesta flotta dal Mediterraneo verso il Golfo Persico e l'Oceano Indiano quindi questo significa che voi dovete fare di più questo è il contesto di crescente difficoltà che mi è stato chiesto di tracciare a questo punto credo sia bene che mi fermi grazie